Eccoci, benvenuti a questo spazio con l'informazione, il nostro telegiornale, bentrovati. Lo apriamo con il nuovo anno giudiziario del Tribunale Amministrativo Regionale, conferenza stampa e poi ovviamente inaugurazione del nuovo anno giudiziario a parte del Presidente Pennetti che ci ricorda che c'è un numero ridotto di ricorsi, conseguenza intanto di pandemia e poi anche del costo della vita, insomma è tutto molto collegato secondo il Presidente Pennetti. Però c'è un miglioramento complessivo anche dell'attività della pubblica amministrazione ed ecco perché dunque anche meno ricorsi. Poi un appello in realtà dice se volete qualità e quantità, insomma il mio organigramma prevede 12 giudici ma noi siamo solo 7 e in questa maniera diventa molto complicato, i particolari con questo servizio. Noi dobbiamo essere messi in condizione di fare di più, meglio e in tempi ancora più brevi. Questo è un TAR che conta su magistrati validissimi, però ecco se vogliamo mantenere un trend insomma per cui la gente, l'utenza come dire è soddisfatta, dobbiamo però avere qualche magistrato in più perché altrimenti il lavoro diventa anche massacrante perché io devo anche segnalare questo fatto, insomma che c'è una pressione continua per definire giudizi. Ormai il mondo corre, tutto è veloce, non è più pensabile come una volta che il ricorso arriva, sta lì e aspetta. Il ricorso deve essere definito prima possibile, però diciamo dobbiamo cercare di puntare a un orizzonte che sia quello di dare a tutti i calabresi una giustizia amministrativa in tempo utile e nella qualità più elevata possibile. Giancarlo Pennetti chiarisce due cose importanti. Se vogliamo qualità e quantità dobbiamo trovare altri 5 giudici tra prima e seconda sezione. La seconda è un garbato invito alle prefetture di accettare il contraddittorio con le imprese in odor di mafia prima di interdirle dai lavori perché un conto è il penale, un conto è l'amministrativo. Nella cerimonia di inaugurazione del nuovo anno giudiziario il presidente del Tar Calabria chiarisce tutti i punti che riguardano la giustizia amministrativa e lo fa anche per chi non ha studiato diritto. C'è un calo di ricosti, di circa 200 è rotti ricosti in meno in ingresso nel 2022 rispetto all'anno scorso. Pensiamo che sia da collegare anche all'aumento del costo della vita, alla spirale inflazionistica che si è instaurata nel 2022. Le interdittive sono sempre numerose, purtroppo e antimafia sono sempre numerose, ancorché anche qui i ricosti si erano stati in diminuzione. Il pubblico impiega o mai altre voci meno importanti sul piano statistico restano magari più o meno simili. La sanità, c'è stato un calo di ricosti riguardanti la sanità. La Calabria si colloca all'interno di un quadro che è quello del Mezzogiorno d'Italia, del sud. Sappiamo che il sud ha dei ritardi su vari fronti, la pubblica amministrazione al sud e quindi anche in Calabria soffre di una serie di problemi in maniera più significativa di quello di cui possono soffrire le stesse amministrazioni nel centro nord. Siamo come una nave che cerca una navigazione tranquilla, ma che quando la vede a portata di mano viene allontanata da qualche nuovo evento. Questa è la metafora usata da pennetti. Il bilancio dunque è in chiaro scuro. Ci manca il personale, dice spero in una risposta positiva e immediata, ma rimaniamo concentrati sulla nostra rotta. Un'altra seduta del Consiglio regionale molto interessante fra l'altro perché finalmente si dà un obiettivo anche al mondo del precariato che è dentro l'organigramma della regione, sostenere tutti i progetti per i quali è previsto il finanziamento attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La Regione Calabria per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza potrà avvalersi dei lavoratori qualificati dalla legge regionale 12 del 2014. E quanto prevede, la legge è approvata all'unanimità dal Consiglio che si propone di raggiungere un duplice obiettivo perché consente di mettere a disposizione di molti enti importanti risorse umane. Un supporto tecnico-operativo finalizzato alla spesa di fondi, destinati allo sviluppo dei nostri territori. Ringrazio molto i firmatari, ha detto il Presidente Occhiuto, ricordando che l'azione della Giunta è stata quella di asciugare il bacino dei precari. Nel corso dei lavori il Consiglio ha approvato all'unanimità la riforma della protezione civile. Il testo normativo prevede una serie di novità tra le più significative, l'individuazione di ambiti territoriali ottimali con relative competenze, l'articolazione delle strutture regionali, l'introduzione dello stato di mobilitazione dello stato di emergenza regionale. Il testo ha ricevuto il voto favorevole anche delle opposizioni, annunciato dagli interventi in aula di Amalia Bruni, Ernesto Lecci, Ferdinando Laghi. Convergenza anche sulla legge che istituisce un osservatorio sull'autismo. L'osservatorio vuole essere una risposta e un segnale forte che va nella direzione di essere innanzitutto un osservatorio socio-sanitario di carattere soprattutto socio-assistenziale, da non confondere con l'osservatorio sull'autismo che è previsto nel piano operativo che ha più una caratteristica legata al mondo della scienza. Benvenga questa proposta di legge che istituisce un osservatorio su un tema così delicato, quello dell'autismo, che tra l'altro coinvolge una larga fascia della popolazione, anche calabrese. Quindi una risposta importante per capire sul territorio quelli che sono i bisogni delle famiglie. Si parla di autismo per i bambini, per le bambine, ma anche per gli adulti. Quello che io mi auguro, che poi seguono anche dei fatti, perché le famiglie che hanno all'interno delle persone che purtroppo con lo spettro dell'autismo vivono delle difficoltà quotidiane. L'Aula ha proceduto all'elezione del nuovo difensore civico della regione e Obaldo Comito, docente universitario, che ha riportato 22 voti su 29 nella votazione a scrutinio segreto. Ben diverso invece il clima per la discussione della legge Omnibus proposta dal centro-destra, un altro testo che legifera sugli argomenti più disparati e più variegati ed anche su Azienda Zero, che si occuperà della sanità. Nella Omnibus ancora il passaggio della gestione degli impianti di risalita dall'Arsac a Ferrovie della Calabria. Prima uscita ufficiale in consiglio per il neoconsigliere regionale Antonello Tallerico. E dunque a proposito di sanità, finalmente c'è l'azienda ospedaliera universitaria unica che mette insieme l'azienda pugliese Ciaccio con l'azienda Mater Domini, perché come vedete questo è il momento in cui si firma questo protocollo tra il governatore Roberto Chiuto e il magnifico rettore Giovanni Battista De Sarro. Dunque probabilmente una delle aziende ospedaliere universitarie, aziende sanitarie diciamo così, più importanti del Mezzogiorno d'Italia, con centinaia di posti letto, con numeri importanti di professionisti evidentemente, ma anche di grande tecnologie. Insomma l'auspicio è davvero che si possano formare i nuovi medici del terzo millennio attraverso l'università e le strutture ospedaliere universitarie che sono davvero comunque di enorme qualità. Finalmente si arriva davvero a un punto di svolta per la qualità del servizio sanitario regionale in Calabria. Ulteriori delucidazioni nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale. E sempre a proposito di sanità si raggiunge anche un'altra intesa, questa tra l'azienda ospedaliera di Cosenza, l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza e l'Università della Calabria. Sono stati firmati a Cosenza tra l'Università della Calabria, azienda sanitaria provinciale e azienda ospedaliera, due diversi accordi attuativi del protocollo con la Regione Calabria. Uno con il commissario dell'azienda ospedaliera, Vitaliano De Salazar, inerente lo svolgimento di attività relative al corso di laurea in infermieristica. L'altro con il commissario dell'ASP, Antonio Graziano, per infermieristica e medicina e chirurgia con tecnologie digitali. Un importante passo in avanti perché abbiamo sottoscritto sia il protocollo reativo a infermieristica che comprende sia l'azienda ospedaliera di Cosenza che l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza. Inoltre con l'azienda sanitaria provinciale abbiamo sottoscritto un protocollo anche per il corso di laurea in medicina, con l'azienda ospedaliera l'avevamo già sottoscritto in passato, quindi con quello di oggi la rete formativa del corso di laurea in medicina si allarga a tutta l'azienda sanitaria provinciale. Questa convenzione consente alle strutture dell'ASP, quindi parlo di ospedali e la rete territoriale di partecipare all'accrescimento formativo e professionale dei medici, degli specializzanti e degli infermieri. Una sintesi virtuosa che porterà un arricchimento reciproco e il nostro e della rete formativa universitaria. Avremo quindi tirocinanti infermieri che impareranno anche il mestiere nelle nostre strutture ospedaliere e specializzanti medici che frequenteranno i nostri ospedali ma anche la rete territoriale, quindi penso ai distretti, agli ambulatori. All'interno dei protocolli presente un passaggio che consentirà ai tirocinanti del corso di infermieristica di frequentare le strutture ospedaliere cosentine sin dal prossimo mese di ottobre. Stiamo già accogliendo, abbiamo già assunto un docente dell'università, come sapete qualche settimana fa, che l'abbiamo messo subito al lavoro. Adesso la vera sfida è l'integrazione, l'integrazione perché non c'è un attore che prevale sull'altro perché la ricerca ha un senso se c'è l'assistenza. Oggi la ricerca si chiama infatti ricerca clinica dopo un'esperienza di anni fatta dalla scienza e quindi l'ospedale è fondamentale affinché la ricerca abbia i suoi effetti. Ed è in corso anche un trasferimento di naufraghi dall'hotspot di Lampedusa verso Port Empedocle, si tratta di poco meno di 200 persone che stanno per salire a bordo della nave Galaxy. Un aereo invece dovrebbe trasportare un altro gruppo di migranti a Crotone, dunque proseguono i trasferimenti che sono stati disposti dalla prefettura di Agrigento per alleggerire, come vedete peraltro anche da queste immagini, il numero degli ospiti dell'hotspot che conta quasi 2000 presenze a fronte di una capienza massima di poco più di 350 persone. Sinceramente immaginare come si faccia a stare, pensate, no? Spazi per 350 ma in realtà persone, bere, vive in carne e ossa ben 2000. Insomma cose davvero al limite dell'incredibile. Torniamo anche sulla questione del super bonus perché sembrerebbe ci siano degli spirali, delle aperture da parte del governo. Sentiamo. Il governo si dice pronto a risolvere il problema. Lo stop all'accedibilità dei crediti legati ai bonus e soprattutto l'urgenza legata allo sblocco di 19 miliardi di euro nei cassetti fiscali che le imprese non riescono a farsi liquidare dal sistema creditizio sono le urgenze oggetto degli incontri a Palazzuchigi con banche e imprese. Le aperture dell'esecutivo indicano principalmente due soluzioni. L'utilizzo degli F24 per ampliare i margini di intervento delle banche nell'acquisto dei crediti di imposta e la cessione del credito di famiglia a basso reddito. A rassicurare le associazioni di categoria il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Ne discutono anche Cassadepositi, Abisace e Agenzia delle Entrate. Nel pomeriggio a Palazzuchigi arrivano Ance, Confedilizia, Confindustria, Confapi, Alleanza Cooperativa Italiana, CNA e Confartigianato. Il governo è pronto a porre rimedio agli effetti negativi della cessione del credito e ribadisce il suo impegno a trovare le soluzioni più adeguate per quelle imprese del settore edilizio che hanno agito nel rispetto delle norme. Un segnale apprezzato dalle associazioni. Il ministro Giorgetti va oltre. La soluzione che noi cerchiamo, dice, è sull'intero ammontare dei crediti, 110 miliardi di euro. L'urgenza ora è sullo stock dei crediti che fanno riferimento al settore edilizio, cioè 19 miliardi di crediti. Nei prossimi giorni i tavoli tecnici dovranno sgonfiare questa bolla. A quanto pare è superiore all'80% l'adesione allo sciopero dei portuali di Gioiettauro che hanno incrociato le braccia per protestare contro il licenziamento del segretario nazionale Orsaporti, Mimmo Macri, lo ha comunicato la stessa sigla sindacale. Una vicenda che ha assunto livelli nazionali in piazza, infatti, a sostenere Mimmo Macri, c'erano rappresentanti dei sindacati di base ed esponenti politici che provenivano da tutta Italia. Disarmante, dice Orsa, il silenzio dei vertici della società terminalista, la MCT, che vertici che hanno rifiutato l'interlocuzione con il sindacato. Fra l'altro non hanno nemmeno voluto incontrare il sindaco di Gioiettauro che si era messo a disposizione per fare da mediatore. Il rifiuto al confronto che la MCT ha ribadito durante questa mobilitazione provocherà altre azioni di lotta nell'attesa che il Tribunale del Lavoro renda giustizia ordinando il reintegro di Macri nel suo posto di lavoro. E restiamo in area Porto di Gioiettauro perché la Lega punta decisamente perché il Governo nazionale confermi la realizzazione del secondo rigassificatore proprio qui a Gioiettauro, in Calabria. La Calabria ha necessità di sviluppo e di creazione delle condizioni di sistema per poter procedere alla realizzazione di un progetto strategico di crescita e di innovazione. Il rigassificatore a Gioiettauro, di cui si è parlato molto e si sono letti molti annunci, è di rilevante importanza per l'espansione dell'area portuale e per la crescita dell'intero mezzogiorno. Lo afferma in una nota il commissario regionale della Lega Giacomo Francesco Saccomanno. Significherebbe infatti, aggiunge Saccomanno, fornire degli strumenti concreti affinché si possano creare le condizioni per un percorso innovativo che possa portare sostegno all'impresa e all'occupazione, oltre che rafforzare il sistema energetico dell'Italia. In un momento in cui si è smantellato il complesso di strutture producenti energia e si ha necessità di coprire l'importazione di gas dall'estero, non sembra che si possa fare a meno di costruire il rigassificatore a Gioiettauro, zona che ha tutti i requisiti di sostenibilità, anche ambientali, per rendere l'opera immediatamente realizzabile e creare un importante indotto attorno al porto e dall'immensa area industriale. È necessario che il governo assuma delle precise e cederi decisioni, sottolinea Saccomanno, in modo tale che si inizi quell'azione di sostegno concreto al sud per diminuire il gap esistente per come ripetutamente richiesto anche dall'Europa. avrebbero minacciato e compiuto molestie nei confronti di una donna di 47 anni, loro vicina di casa, provocando le stati d'ansia e preoccupazione e fra l'altro costringendola perfino a modificare le proprie normali abitudini di vita. A Centra che i carabinieri hanno arrestato e posto ai domiciliari due persone, marito e moglie. Il provvedimento emesso dal GIP di Catanzaro su richiesta dalla procura è stato adottato per violazione delle prescrizioni. I due hanno aggravato la loro posizione dopo un precedente divieto di dimora nel comune di Olivadi e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da questa donna di 47 anni. L'ipotesi è che i coniugi abbiano anche compiuto dei danneggiamenti. La coppia è stata accompagnata in una loro abitazione, la propria abitazione, però in un altro comune. Ancora sui furbetti del reddito di cittadinanza se ne scopre praticamente uno via l'altro, come le caramelle veramente. Adesso è una truffa di, presunta, chiaro, certo, ma è una truffa di circa 1 milione 300 mila Euro con 120 denunce. Vediamo dove. Percepivano il reddito di cittadinanza, ma non ne avevano diritto. Per questo i carabinieri della stazione di Ortì nel Regino e del nucleo ispettorato di Reggio hanno denunciato 120 persone per truffa aggravata, per indebita percezione, del reddito di cittadinanza a seguito di false dichiarazioni o omissioni riscontrate. Le irregolarità riscontrate hanno impedito l'elargizione dei sussidi a soggetti non aventi diritto per un importo complessivo di oltre 1 milione 300 mila Euro. Le indagini dei militari dell'arma hanno permesso, attraverso un'attenta attività di analisi documentale in relazione alle innumerevoli istanze presentate e a un esame incrociato tra le verifiche eseguite sul territorio e gli accertamenti info-investigativi di verificare per l'appunto numerose irregolarità da parte dei denunciati nelle procedure di attestazione e l'assenza dei requisiti previsti. Le indagini riguardano il periodo compreso tra marzo 2019 e febbraio 2021. Gli esiti dell'attività investigativa sono stati segnalati alla magistratura e anche all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ai fini dell'interruzione e dell'elargizione del sussidio nei riguardi dei soggetti interessati ed il recupero delle somme indebitamente percepite. Martedì grasso, andiamo a vedere che cosa è successo a Castrovillari. È alle battute finali la 65esima edizione del Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folclore, oggi grande attesa per la seconda e ultima sfilata del concorso di maschere e carri allegorici che decreterà anche il primo gruppo mascherato e il primo carro allegorico dell'edizione targata 2023. Intanto ieri sera presso il Palaga Spullino allestito nell'area mercatale è andato in scena il Gran Galà del Folclore che ha visto la presenza dei gruppi provenienti dall'Ucraina, Serbia, Grecia, Uzbekistan e Italia. Ad aprire la serata condotta da Magda Mancuso, il gruppo ospitante la Kermess Proloco di Castrovillari insieme ai piccoli che hanno incantato il popolo del Carnevale con un quadro scenico sulle tradizioni popolari castrovillaresi legate alla devozione e festa della Madonna della Pietà. Dall'Italia all'Ucraina con il Folk Dance Ensemble Neogalactica che ha fatto conoscere una delle danze più caratteristiche dei territori della Bucovina e della Gukolia, la Gopak. Spazio poi alla Serbia con il gruppo Kud Tamnava Dance con la storia di una ragazza posseduta dal demonio e solo grazie alla danza riesce a ritornare nel mondo dei vivi. Poi le nostre tradizioni attraverso l'esibizione del gruppo folclorico i Castrovillari impegnato nell'approfondire il lavoro di ricerca del patrimonio popolare dandogli nuova luce. E poi la danza per Antonomasia della Grecia e il Sir Taki con il Thessaloniki Folk Dance Ensemble che riflette emozioni e aspetti particolari della vita. Ed infine l'Uzbekistan con lo State Dance Ensemble Bajor con la danza Korem Lazgi diventata patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO. Una bellissima serata di tradizioni, culture e sapere di popoli diversi. E l'unione tra i popoli e la pace è stata sottolineata dalla consegna al direttore artistico della Prologo di Castrovillari Gerardo Bonifati della onorificenza da parte della Fondazione Internazionale Papa Clemente XI Albani-Tirana-Albania di membro d'onore della Fondazione targa consegnata dal dottor Dario Giannicola delegato regionale Calabria. E adesso le previsioni del tempo con Trebi Meteo Amici di Trebi Meteo, un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì. La situazione sinottica in Europa ci mostra il graduale indebolimento dell'anticiclone presente sul Mediterraneo e sull'Italia per l'afflusso di correnti un po' più umide dai quadranti occidentali che piloteranno anche una blanda perturbazione si avvicinerà all'Italia entro la fine della giornata. Vediamo infatti la nuvorosità sull'Italia che ci mostra oltre alle nubi basse e alle foschie spesse presenti sul litorale terrenico e a tratti anche su quello adriatico l'arrivo di nubi medio alte che porteranno proprio un espessimento della nuvorosità al centro nord e l'arrivo anche di qualche goccia di pioggia entro fine giornata. Diamo dunque uno sguardo alla previsione per la giornata di mercoledì che ci mostra un aumento delle nubi su gran parte del centro nord Italia che saranno associate anche a delle deboli piogge in arrivo soprattutto dal pomeriggio tra Liguria e Alta Toscana e poi entro fine giornata qualche blando fenomeno anche al nord ovest. Prevaranno invece le schiarite alla sud in un contesto climatico sempre molto mite per il periodo le minime infatti saranno in aumento e le massime sempre generalmente comprese tra 10 e 17 gradi su gran parte delle nostre regioni. Con questo è tutto, per maggiori dettagli vi invito a consultare il nostro sito o l'app gratuita di Trevi Meteo. Quasi le 14.24, ci fermiamo, non andate via restate con noi, se resteremo ancora in diretta per chi adesso tocca a Luigi Saborito il suo Smart Sport nel pomeriggio di Esperia noi ci vediamo più tardi alle 5 e mezza. Grazie.